Torniamo con il nostro collegamento con la redazione social, in particolare con Luca Pompei, sul delitto di Miglianico, sulla donna di 41 anni, uccisa ieri dal compagno che poi si è costituito. La donna pare si fosse rivolta ai servizi sociali, ma per saperne di più andiamo a sentire proprio Luca Pompei. Luca, buongiorno. Non sento l'audio. Le progedie di Miglianico stanno emergendo in queste ore altri particolari per quanto riguarda questo terribile episodio, in particolare sulla figura dell'assassino Giovanni Carbone, 39 anni, originario di Matera, ma ha vissuto molti anni della sua vita a Cerignola e ultimamente si trovava in Abruzzo. Tra l'altro su di lui una condanna passata in giudicato per resistenza e violenza privata per un episodio accaduto nel 2019 a San Giovanni Teatino. Quindi un personaggio particolare sul quale soprattutto i parenti di Eliana avevano segnalato le loro perplessità, ma Eliana sperava comunque di poter rimettere in piedi la situazione. Si era rivolta, come hai detto giustamente tu, ai servizi sociali anche per dare una mano a Giovanni Carbone, che era disoccupato, mentre lei era impiegata di banca a Pescara. Una richiesta d'aiuto. Il comune di Miglianico, per bocca del sindaco Fabio Adezio, ha assicurato che l'amministrazione comunale se ne stava occupando, ma evidentemente non è stato sufficiente. Ieri mattina intorno alle 8, probabilmente al culmine di una discussione tra i due, l'uomo le ha puntato una pistola alla testa e ha sparato un solo colpo, che è il risultato purtroppo fatale per Eliana. Poi ha spostato il corpo nella sottoscala dell'appartamento in via Don Paolo Francesco Antonelli, a Miglianico e si è recato la caserma dei Carabinieri intorno, non prima di mezzogiorno, e lì ha confessato il delitto. Una tragedia in mane, dicevamo, la famiglia di Eliana è sconvolta. In queste immagini state vedendo la sorella Valeria, che ieri non trovava pace, e poi è stata portata via anche per non essere in qualche modo disturbata dalle telecamere, ma una famiglia sconvolta, soprattutto adesso per il futuro dei due bambini di Eliana, dei bambini che sono stati ovviamente momentaneamente affidati al padre. I bambini, infatti, Eliana li aveva avuti da una precedente relazione. Continuano le indagini. Ieri Giovanni Carbone, presso la caserma dei Carabinieri di Miglianico, assistito dall'avvocato Franca Zuccherini, si è rifugiato nel più assoluto silenzio rispetto ai tanti particolari che devono essere ancora chiariti su questo terribile episodio. Intanto, come ha avuto l'arma, sicuramente in maniera illecita, e poi altri particolari riguardanti la dinamica del delitto. Resta ovviamente in custodia la carcere di Lanciano, Giovanni Carbone, in attesa di dare maggiori chiarimenti su quanto accaduto. Ma resta il profondo dolore, Marina, per questo ennesimo femminicidio di cui ne faremo davvero a meno e siamo anche stanchi di raccontare storie come queste. A te Marina.